Nel ringraziarvi per essere nuovamente su questo canale di YouTube desidero fare un brevissimo prologo prima della traduzione che segue. Il video originale, non il link che trovate nella descrizione, risale al 2011, ovvero sei anni e mezzo fa. Questo video si basa sulla presentazione che ho fatto alla conferenza a Sumer, sulla vita a Toronto, il 27 ottobre 2011. Sindrome dell'invecchiamento rapido. Cos'è? Cosa lo causa? Cosa possiamo fare? Penserete che le informazioni che presento siano top secret. Non vengono insegnate a scuola, non vengono discusse dalla sanità canadese. Molti medici ignorano questo e non fa parte delle notizie della sera. Non sto riferendomi all'invecchiamento rapido esterno, mi sto riferendo all'invecchiamento rapido interno. I sintomi includono sonno carente, confusione, fatica cronica, sofferenza, ansietà, depressione ed uno stuolo di altri sintomi che trattiamo con i farmaceutici. Nel 2001 uno studio condotto in Spagna ha esaminato i sintomi sperimentati da diverse persone che vivevano a varie distanze dai ripetitori telefonici. Adesso vi chiederete, chi vive così vicino a queste antenne? La risposta è non molte persone. Questo è un appartamento a Toronto dove si vedono due antenne sul tetto. L'uomo sul balcone è molto vicino a tutte e due. Queste antenne trasmettono costantemente radiazioni microonda. Gli ultimi piani delle costruzioni spesso hanno esposizioni più elevate. Secondo lo studio spagnolo le persone che vivono a 300 metri dai ripetitori telefonici hanno un aumento di questi sintomi. Affaticamento, disturbi nel sonno, difficoltà di concentrazione, depressione, perdita di memoria, disturbi visivi, disturbi di ascolto, problemi di cute, cardiovascolari, vertigini, mancanza di appetito, difficoltà nei movimenti. Collettivamente questi sintomi sono conosciuti come ipersensibilità elettrica. I sintomi in rosso sono quelli che sperimentiamo quando invecchiamo. Ecco perché preferisco chiamarli sindrome di invecchiamento rapido. Infatti, molte persone che sono ipersensibili elettricamente ascrivono i loro sintomi all'età, ad uno stile di vita stressante, tanto da abituarsi alla malattia cronica. La fonte dello smog elettrico, nell'esempio, è causato dalle antenne e noi, usando i dispositivi quotidianamente, ci esponiamo in ugual maniera alle radiazioni, inclusi i contatori intelligenti. Se potessimo ascoltare queste radiazioni, questo è il suono che si sentirebbe. In questa fotografia notate qualcosa di insolito? Le piante vicine al contatore intelligente non sono così in salute come quelle più lontane. Inoltre, l'elettrosmog è associato con le malattie degenerative, quali diabete, diversi disordini neurologici, problemi di cuore che causano accelerazioni cardiache irregolari, disturbi del sangue che influenzano lo sperma e che sono associati a vari tipi di cancro. La degenerazione inizia dalle cellule e qui vediamo un esempio. Ho preso un campione del mio sangue e l'ho messo su dei vetrini, poi ho messo i vetrini sotto il microscopio. Questo è come si vedeva il mio sangue quando mi trovavo a casa, dove l'elettromagnetismo era assente. Dopo aver usato il computer per 70 minuti e dopo aver parlato attraverso il cordless per 10 minuti, le cellule di sangue stavano unite insieme, quasi a raffigurare delle pile di monete. Questa si chiama formazione di Rouleau e sta a indicare un sangue non sano. Vi ricordo che l'invecchiamento inizia dalle nostre cellule. Qui c'è un altro esempio di come l'energia elettromagnetica può influenzare le cellule del sangue. Questa volta mi sono stesa su un materasso, quindi ho emesso dei campi magnetici. Dopo un trattamento di 8 minuti, anziché un aggregamento del mio sangue, molte delle mie cellule erano libere e non aderivano l'una con l'altra. Questo ha permesso di avere un'area di superficie col massimo scambio di gas. Si comprende così che non tutti i campi magnetici sono uguali. Anche la guarigione inizia dalle nostre cellule. Prima iniziamo a studiare gli effetti dannosi dell'elettrosmog. Recentemente mi sono interessata ai benefici delle terapie elettriche dell'energia elettromagnetica. Questo è lo Ying Yang dell'esposizione elettromagnetica. Ho collaborato con Bob Connelly e siamo stati in vari paesi europei e nell'America del Nord, intervistando scienziati, medici, ingegneri, lavorando con gli impulsi dei campi elettromagnetici per il documentario che stavamo producendo. Questa è una punta delle informazioni che abbiamo raccolto da allora. Pulsazione dei campi elettromagnetici, in breve PEMF, è stato usato fin dal 1970 per guarire le fratture delle ossa. Al giorno d'oggi si possono acquistare dispositivi portatili PEMF che si possono fissare al nostro corpo per accelerare la guarigione ed alleviare il dolore. Anche i veterinari usano questi congegni. La guarigione delle fratture osse è stato uno dei primi usi nelle terapie di pulsazioni magnetiche riconosciute dalle agenzie della sanità del Nord America. A Camacca, centro per la dipendenza e della salute mentale, all'Università di Toronto, i medici testano l'efficacia delle terapie magnetiche al cranio a seguito di disordini ossessivo-compulsivo, di schizofrenia, depressione e di ansietà. La pulsazione dei campi magnetici viene applicata alla testa ed è stata approvata dalla Sanità del Canada come classe 3 delle strumentazioni. Nel Quebec abbiamo incontrato il dottor Roland Drolet, inventore del RUMART, un congegno che all'inizio era stato progettato per chi soffriva di reumatismi ed artrosi. Il dottor Drolet ha usato dei cuscinetti per localizzare il trattamento e due ampi anelli di metallo per trattare l'intero corpo. Questo dispositivo ha ricevuto il brevetto canadese nel 1983. Fa uso di frequenze comuni sulla Terra, la risonanza di Tesla-Schumann, che è simile al battito cardiaco della Terra ed una forma di onde che assomiglia all'azione potenziale delle cellule nervose. Abbiamo preso il RUMART per testare con un medico dell'Istituto di Bioenergia Metabolica della Pennsylvania, dove il dottor Jeff Marongel, attraverso degli elettrodi interstiziali, ha analizzato la misura dell'impendenza biologica valutando gli squilibri nel corpo. Qui uno dei suoi pazienti. Vengono collegati due elettrodi sulla fronte, mentre tiene le mani ed i piedi sulle lastre metalliche. Una leggera corrente passa attraverso il suo corpo indicando gli squilibri del fluido che immerge le cellule. Il giorno in cui ci trovammo là, il paziente è arrivato lamentando un mal di schiena cronico. Lo scanner ha mostrato che in realtà aveva un'infiammazione che si vedeva in rosso, in varie parti lungo la sua colonna spinale. Il paziente, dopo aver ricevuto dieci minuti di trattamento con lo RUMART, ha dichiarato che stava meglio, con una riduzione dell'80% del dolore alla schiena. Un successivo ed immediato scanner ha mostrato che le infiammazioni nelle aree in rosso erano sparite. Due settimane più tardi il dolore non è più tornato. Siamo stati anche in Europa. La Svizzera è luogo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Hanno accesso alle più avanzate tecnologie dell'assistenza sanitaria. In Svizzera abbiamo incontrato il dottor Thomas Rau, che dirige la clinica Paracelsis, famosa in tutto il mondo, conosciuta per il trattamento dei casi più difficili. L'odontoiatria è una delle parti più importanti di questa clinica, anziché l'uso di prodotti farmaceutici. Per ridurre il dolore, il dottor Rau usa impulsi di campi elettromagnetici. Dopo la chirurgia dentale, il paziente mette la testa nel mezzo di un cilindro che emette impulsi elettromagnetici di energia, i quali eliminano il dolore. Il cilindro può essere usato anche per altre parti del corpo. A Lugano, nella Svizzera, abbiamo visitato l'industria che assembla l'MRS, Controllo degli Impulsi Magnetici. Questi congegni sono comunemente usati nei centri della Svizzera, dove i pazienti vanno diverse volte alla settimana per i trattamenti. Successivamente siamo stati anche nell'Ictestein e ci siamo incontrati con l'amministratore delegato della BIMEN. Producono materassini che emettono pulsazioni di campi magnetici. Mentre ci trovavamo là, ci hanno presentato il lavoro del dottor Rainer Klopp, dell'Istituto per la Microcircolazione. Il dottor Klopp è stato in grado di documentare dal vivo i globuli del sangue che si muovevano attraverso i vasi sanguini nel corpo, con l'uso della grafica a video in tempo reale, come si vede qui. In alcuni vasi il sangue non fluisce facilmente, è simile ad un ingorgo del traffico. Qui è come appare la microcircolazione dopo il trattamento di onde. Ora il sangue fluisce bene. Qui lo possiamo vedere nuovamente, a destra prima del trattamento e dopo il trattamento a sinistra. Un trattamento che migliora la circolazione ha benefici per il corpo intero. Il raggio ha effetti anche sul comportamento dei globuli bianchi del sangue. I globuli bianchi sono un componente importante per il sistema immunitario. Dopo il trattamento si possono vedere i globuli bianchi che strisciano lungo le parti interne dei vasi sanguigni. Permettono di individuare meglio i siti dei recettori indicanti le infezioni. Questo raro filmato a rallentatore mostra un globulo bianco che migra nel tessuto che lo circonda. Che cosa significa tutto questo? Abbiamo le prove che l'esposizione della terapia alle pulsazioni dei campi elettromagnetici riduce la viscosità del sangue, migliora la circolazione sanguigna, giova al sistema immunitario, promuove la guarigione delle fratture osse, combatte la depressione e riduce il dolore. Le pulsazioni dei campi elettromagnetici aiuta diverse persone in molte differenti condizioni. Tuttavia i congegni P e MF non curano una condizione specifica, anzi non migliorano la guarigione naturale del corpo e le irregolazioni funzionali. Perché questa non è una conoscenza comune nell'America del Nord? Mentre possiamo avere dei benefici dalla frequenza benefiche, dobbiamo ridurre l'esposizione delle frequenze dannose se vogliamo mantenere o riacquistare la nostra salute. Ecco alcune raccomandazioni. Tenete dispositivi che emettono radiazioni di radiofrequenze lontani dai vostri corpi. Tutti i manuali dei cellulari forniscono le stesse avvertenze, ossia di tenere i dispositivi lontano dai vostri corpi e di ridurre il tempo delle chiamate. Nell'ottobre del 2011 l'Organizzazione della Salute Canadese ha emesso un avvertimento di limitare l'uso dei cellulari, in particolare quella di età inferiore ai 18 anni. Questo è avvenuto cinque mesi dopo che l'Organizzazione Mondiale della Salute ha riclassificato i campi di radiofrequenze elettromagnetiche a causa delle possibilità di cancerogeno umano, 11 anni dopo un avvertimento simile nel Regno Unito. Usate apparati col cavo anziché wireless. Create un santuario nella vostra casa. Questo baldacchino contiene fibre d'argento che riflettono le radiazioni ed è particolarmente utile se vivete vicino ai ripetitori. Altri prodotti hanno effetti simili. I filtri inseriti nelle prese elettriche sono in grado di ridurre le vostre esposizioni sull'elettricità non pulita. Potete usare l'argento per proteggere il vostro corpo quando siete via da casa, non sotto forma di gioiello, ma nella forma di fibra d'argento, che si può usare nella biancheria intima, o nelle fodere dei vestiti o delle giacche. Gli individui molto sensibili hanno bisogno di coprire il corpo intero in certi ambienti. Un burka rivestito è l'ideale. La sola cosa che manca è una protezione di occhiali per i nostri occhi, che sono molto sensibili alle micro radiazioni. Le informazioni presentate in questo video sono sia inquietanti che incoraggianti. Sono particolarmente inquietanti se si considera che almeno il 30% della popolazione ha una media o moderata ipersensibilità elettrica. Il 3% circa della popolazione sono malati cronici con sintomi gravi, tanto che alcune di queste persone sono diventate rifugiati elettromagnetici nelle proprie abitazioni. È inquietante anche per i livelli dell'elettrosmog, che stanno aumentando prima ancora di avere dei regolamenti appropriati di controllo. Una particolare preoccupazione anche per la potente 4G e le antenne tetra. È incoraggiante perché stiamo iniziando a comprendere meglio come può guarire il corpo e di certe terapie che promuovono le guarigioni anziché mascherare i sintomi. È incoraggiante perché le organizzazioni della salute canadese e del mondo stanno avviandosi nella giusta direzione. Ed è incoraggiante perché i mezzi di comunicazione stanno iniziando a portare questa informazione e l'attenzione del pubblico. Tutti abbiamo una parte importante da fare se vogliamo assicurare una buona salute per noi stessi e per le generazioni future. Abbiamo bisogno di rimuovere il wifi dalle scuole. Abbiamo bisogno di linee guide sicure che riconoscono gli effetti non termici. Abbiamo bisogno di istruire medici ed altri professionisti della salute sull'elettrosmog, sulla ipersensibilità elettrica ed elettroterapeutica. Abbiamo bisogno di prevenire installazioni di antenne vicino alle aree residenziali, ospedali e scuole. E abbiamo bisogno di usare contatori a cavo anziché contatori intelligenti wireless che ci vengono proposti dai governi. I mezzi di comunicazione hanno un ruolo critico da condurre per aumentare la consapevolezza pubblica. Tutte le verità passano attraverso tre stadi. Primo, vengono ridicolizzate. Secondo, vengono violentemente contrariate. Terzo, sono accettate come evidenti. Arthur Schopenhauer, filosofo tedesco 1788-1860 Nei prossimi 5 o 10 anni le informazioni che ho presentato in questo video saranno evidenti anche se qualcuno crede che già lo siano. La salute è il nostro bene più grande. Lao Tzu